In Messico 14 persone sono morte tra queste 11 bambini nell'esplosione di un deposito di materiale pirotecnico avvenuta in località Sant'Isidro, 140 km circa ad est di città del Messico. Diversi residenti si trovavano sul sito per i preparativi della festa locale prevista per il 16 di maggio. La deflagrazione è avvenuta quando il personale stava celebrando la fine dei lavori di preparazione. I bambini rimasti uccisi avevano tra i 4 e i 14 anni.